Incidente sulla strada statale 117 bis nelle vicinanze di piazza Armerina, un morto. Incidente stradale a Caltanissetta, due donne soccorse dal 118, ritirata la patente di un giovane, scattato anche il fermo amministrativo dell'auto. Prima che l'abuso accada, tema del convegno diocesano organizzato dall'ufficio del servizio per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Movimento 5 Stelle, Marina Mancuso è capogruppo consigliare dopo le dimissioni di Michele Doro. La disfida di Caltanissetta tra Arancino e Arancina, massiccia partecipazione all'insegna dell'allegria. Calcio, San Cataldese e Nissa ritrovano la vittoria, i Verdi Amaranto si impongono a Trapani, i Biancoscudati si aggiudicano il derby con il Gela al Palmintelli. Ben trovati, incidente stradale sulla statale 117 bis nelle vicinanze di Piazza Armerina, nell'ennese un morto. La sua punto è andata a schiantarsi contro il guardrail della strada statale 117 bis, all'altezza dello svincolo di Piazza Armerina Nord, finendo quasi per essere spezzate in due dalle lamiere. E' morto così ieri sera un carpentiere di 65 anni di Piazza Armerina. Dopo alcune ore i soccorritori sono riusciti a estrarre il corpo dalle lamiere, tentando disperatamente di rianimare il 65enne. Ma per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. L'incidente si è consumato sulla statale 117 bis. Sul posto sono arrivati tempestivamente la polizia di Stato, i vigili del fuoco e gli operatori del 118. Secondo una prima ricostruzione, inoltre, l'auto sarebbe arrivata da Gela e nella prossimità del bivio l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo. E' l'ennesima tragedia che colpisce la città dei mosaici, che negli ultimi mesi ha pianto numerose vittime della strada, molte delle quali, purtroppo, giovani. Il prossimo servizio. Allarme tra il tardo pomeriggio e la prima serata di oggi tra via Borremans e via Paladini a causa di una fuga di gas. L'emergenza è scattata intorno alle 18, quando è stata segnalata la presenza di gas che, secondo quanto accertato finora, fuoriusciva a causa di un danno alla tubatura nel punto in cui la via Borremans svolta a destra su via Paladini. Nella zona ci sono anche dei lavori in corso. L'odore ha subito impregnato l'aria e sul posto sono arrivati rapidamente i vigili del fuoco insieme alle pattuglie della polizia municipale, dei carabinieri e della polizia di Stato. Per precauzione è arrivata anche un'ambulanza del 118, ma fortunatamente non si sono registrati malori o altre conseguenze ai cittadini. I vigili del fuoco, insieme al personale dell'ufficio tecnico arrivato insieme al sindaco Roberto Gambino, hanno cercato di capire il punto esatto della tubatura in cui si era verificata la fuoriuscita di gas e hanno lavorato alacremente per mettere in sicurezza la zona. Nel frattempo l'odore del gas è stato avvertito non solo tra via Borremans e via Paladini, ma anche in altre zone, tra cui via Le Trieste, la stessa via Mari e anche a ridosso del quartiere Santa Flavia. Inizialmente non era stata disposta all'evacuazione dei residenti della zona, ma successivamente sembra che qualche residente abbia dovuto lasciare la propria abitazione. Una scuola di musica che ha la sede in via Borremans ha precauzionalmente interrotto tutte le attività intorno alle 19. Le forze dell'ordine e la polizia municipale hanno provveduto a bloccare il traffico all'altezza degli incroci in cui via Paladini e via Borremans intersecano via Mico Valenti e via Michele Amari. Un altro incidente a Caltanissetta, due donne soccorse dal 118, ritirata la patente di guida di un giovane, scattato anche il fermo amministrativo dell'auto. Un ragazzo nisseno di 27 anni in stato di abbezza alcolica e con a bordo due ragazze si è schiantato contro un'auto parcheggiata. L'episodio si è verificato nella notte quando i carabinieri di Caltanissetta sono intervenuti in via Fasce Siciliani. Nella fattispecie il giovane alla guida di una Nissan Qashqai è finito contro una Fiat Panda regolarmente posteggiata di proprietà di un 61enne. A bordo della Nissan inoltre si trovavano due ragazze di 25 anni, entrambe trasportate dal personale sanitario del 118 all'ospedale Sant'Elia dove sono state curate e dimesse con una prognosi di tre giorni. L'autista, il ragazzo di 27 anni, è risultato positivo all'alcol test ed è stato quindi deferito per guida in stato di abbrezza alcolica. Infine, gli è stata ritirata anche la patente di guida, con conseguente fermo amministrativo del mezzo. Pre-Halloween, contrasto all'abuso di alcol, la Polizia di Stato aderisce all'iniziativa della cooperativa sociale Etnos per promuovere il sano divertimento. Un evento di sensibilizzazione sull'uso dell'alcol e sui comportamenti corretti da tenere all'insegna del sano divertimento. Questo è lo spirito che ha animato la serata ribattezzata Pre-Halloween e che si è svolto in un locale nisseno su iniziativa della cooperativa Etnos, la quale ha aderito anche la Polizia di Stato. Importante è il contributo dato dal medico della questura di Caltanissetta, Salvatore di Benedetto, il quale ha fornito le corrette informazioni ai partecipanti sulle conseguenze negative per l'organismo nei casi di abuso di alcol e stupefacenti. Un intervento, quello del medico della questura, che ha suscitato interesse e partecipazione, in particolare tra i giovanissimi. Un giovane di 14 anni è sottolineato come non sia un evento comune che un rappresentante delle forze dell'ordine partecipi a un evento per giovanissimi per dare consigli, ma soprattutto per instaurare un dialogo, sperando che anche a scuola possano esserci più spazio per eventi di carattere informativo su temi così attuali. Contenti anche i genitori di diversi ragazzi che hanno partecipato al pre-Halloween, sia perché le occasioni di socializzazione sana sono considerate importanti per la crescita dei ragazzi e sia per la possibilità di divertirsi in maniera sicura senza cercare il cosiddetto sballo legato all'abuso di alcol e altre sostanze a tutti i costi. Un giovane gelese di 29 anni è stato arrestato e condotto nel carcere di Gela dalla polizia perché deve scontare tre anni, tre mesi e 17 giorni di reclusione per l'accusa di traffico di stupefacenti. I poliziotti del commissariato della città del Golfo hanno eseguito l'ordine di cattura emesso dall'ufficio esecuzioni penali della procura gelese, una volta che i giudici hanno messo il sigillo sulla condanna dell'imputato, rendendola definitiva. La difesa aveva chiesto anche l'applicazione di una misura più lieve rispetto alla detenzione dietro le sbarre, ma l'istanza è stata rigettata. Oltre alla condanna penale, nei confronti del 29 venne, è stato disposto il pagamento di una multa da 6.400 euro. Ci spostiamo nell'Agrigentino, il fiume Naro diventa nero. Segnalazione di Mare Amico. Uno spettacolo quasi da scenografia di film fantasy, quello che si è presentato agli occhi di chi si è trovato nelle vicinanze del fiume Naro, nell'Agrigentino. Il corso d'acqua si è infatti completamente tinto di nero. Nessuna magia dietro, naturalmente. A causare tutto questo sono stati gli scarti dei procedimenti di molitura, cioè la macinazione delle olive eseguita nei numerosi frantoi che sorgono nell'Agrigentino, in particolare nelle zone di Canicattì, Naro, Camastra e Favara. A segnalare l'accaduto è stata l'associazione Mare Amico, i cui componenti hanno sottolineato che le acque di vegetazione sono 200 volte più inquinanti delle fogne, poiché sottraendo l'ossigeno alle acque provocano la morte di tutte le specie viventi nei vari luoghi. E appunto la presenza di numerosi frantoi lungo il tratto in cui scorre il fiume Naro acquisce il problema e i rischi di inquinamento. A Gela sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio. Negli ultimi giorni i carabinieri hanno eseguito 48 perquisizioni personali e 3 domiciliari. Continuano senza soste i controlli svolti dai carabinieri del reparto territoriale di Gela nell'ambito dell'intensificazione dell'azione di prevenzione dei reati decisi dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia. L'azione dei militari, inoltre, è supportato dall'elicottero dei carabinieri di Palermo e dai militari del Regimento Mobile dei Carabinieri di Sicilia, da alcuni giorni nel comune Nisseno per rafforzare il dispositivo di controllo del territorio. Nella fattispecie, nel corso di un'ottantina di posti di controllo, sono stati verificati 321 automezzi, elevate 52 contravvenzioni al Codice della Strada, ritirate 8 carte di circolazione e identificate 659 persone. Sono state eseguite inoltre 48 perquisizioni personali e 3 domiciliari, al termine delle quali sono stati rinvenuti due coltelli di igiene nevietato, 3 grammi di hashish e 4 di marijuana. Infine, al termine degli accertamenti, come recita la nota, sono stati segnalati alla prefettura tre soggetti quali assuntori di sostanze stupefacenti, due persone all'autorità giudiziaria per guida senza patente, due persone per porto illegale di coltello e infine una persona per guida e stato di ebbrezza alcolica. Prima che l'abuso accada, il tema del convegno diocesano organizzato dall'ufficio Servizio per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Prima che l'abuso accada, il titolo del convegno diocesano del 29 ottobre organizzato dall'ufficio diocesano del Servizio per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili nel salone del seminario vescovile di Caltanissetta. Presente il vescovo di Caltanissetta, Monsignor Mauro Rossotto, di intervenire sulla tematica, lo psicoterapeuta Don Salvatore Franco e la dottoressa neuropsichiatra infantile Bianca Maria Aggiunta ed il questore di Caltanissetta, Emanuele Ricifari. Un convegno al cui scopo è quello di contribuire all'opera di sensibilizzazione e formazione della comunità religiosa e civile sul problema degli abusi sui minori partendo dalla prevenzione. L'abuso, come dicevo, ci insegna che la sessualità è molto molto delicata, va trattata con molta attenzione proprio perché va insieme all'identità della persona e risente dello sviluppo dell'identità della persona. Per cui è giusto che noi, avendo una visione della sessualità che ci viene dalla scrittura, ci viene dagli insegnamenti soprattutto di Giovanni Paolo II, che è stato un grande maestro della teologia del corpo, abbiamo tanti strumenti, tanti modi per poter educare nuove generazioni a un rispetto della sessualità, a una visione sana, a una visione corretta e che a mio avviso è di aiuto anche per la lotta contro ogni forma di abuso. Molti gli interrogativi centrali affrontati dal perché avviene l'abuso sui minori e sulle persone vulnerabili, a quale sia la dinamica intrinseca dell'abuso, fino al tema delle ferite psicologiche che la vittima dell'abuso porta con sé, fino all'osservazione dei campanelli d'allarme. Se noi siamo di fronte a un ragazzo, un bambino, una bambina, che dapprima vivono il contesto sociale serenamente, sono ben inseriti, hanno un'attività che preferiscono come ad esempio un'attività sportiva e a un certo punto questi ragazzi invece si ritirano, evitano di svolgere la loro attività preferita, si attaccano particolarmente a una figura di riferimento che può essere un genitore, che può essere una figura di riferimento. Cominciano a manifestare disagio, cominciano ad essere aggressivi, possono essere aggressivi nei confronti di se stessi, nei confronti dei compagni, nei confronti delle cose, nei confronti degli animali. Intanto capire che il bambino, la bambina, il ragazzo sta vivendo una situazione di malessere e quindi attenzionarlo. Il questore di Caltanissetta ha inoltre descritto la situazione degli abusi su minori nella provincia del capoluogo. Come le funzioni di polizia sono anche e soprattutto di prevenzione, avere occasione come queste in cui si riflette sui fenomeni, su quelli che sono gli indicatori dei fenomeni quando ancora non sono esplosi o non sono emersi. La possibilità di individuare i fattori di rischio è pienamente nelle funzioni e nelle competenze, ma direi che è una delle missioni più importanti del fare polizia. Movimento 5 Stelle, Marina Mancuso e capogruppo consigliare dopo le dimissioni di Michele Doro. Il consigliere Michele Doro ha formalmente rassegnato le dimissioni da capogruppo del Movimento 5 Stelle, consegnando il testimone al consigliere Marina Mancuso. In una nota della sua pagina Facebook il consigliere Doro ha dichiarato che è stato un periodo intenso, ricco di confronti che lo hanno contribuito alla sua crescita umana e politica, ma anche pieno di ostacoli che lo hanno temprato. Continuerà a svolgere il suo dovere di consigliere di maggioranza con impegno, consapevole più che mai del suo contributo alla causa dei 5 Stelle. Dunque adesso l'ingarico passa a Marina Mancuso. Sono consapevole della responsabilità che è grave su di me e mi auguro che possiamo lavorare non soltanto in piena sintonia, ma anche con la collaborazione e il contributo di tutti, perché alla fine io sono soltanto un portavoce di quello che è il volere dell'intero gruppo consigliare. Auguro a me stessa e a tutti i colleghi buon lavoro e credo che metteremo tutti, così come è stato finora, il massimo impegno per portare avanti questi ulteriori mesi di consigliatura nel miglior modo possibile. Croce Rossa italiana, trasporto infermi, otto nuovi operatori a Caltanissetta hanno superato l'esame dopo due mesi di formazione. Dopo un periodo di affiancamento, durante il quale hanno potuto affinare le competenze acquisite durante il corso di formazione ed avendo superato il relativo esame, hanno acquisito ufficialmente il titolo di operatori trasporto infermi. Docenti del corso, oltre a Nicolo Piave, Michele Liccardo, Andrea Miciche, anche Cristian Fenu, Noemi Mantione, Marco Lacagnina, Ignazio Lacagnina, Andrea Leone, Federica Laverde, Antonino Ariosto e Michele Ginevra. Il corso prosegue intanto per poter acquisire la qualifica di soccorritore con ulteriori 30 ore di tirocinio pratico in ambulanza, in situazione di emergenza e ben ulteriori 50 ore di formazione pratica ed in aula. Una formazione, quella della Croce Rossa, che rispecchia gli standard della regione Sicilia, in materia di emergenza sanitaria con il corso TSSA, acronimo di trasporto sanitario e soccorso in ambulanza, che è altamente qualificante e formativo, al fine di dare sempre il miglior servizio al cittadino. I volontari abilitati al percorso di trasporto infermi sono Francesco Musarra, Filippo Lentini, Cristian Milanese, Adriana Alessia Maida, Michela Bonaffini, Michele Russo, Chiara Sferralza e Massimiliano Lucerna. Soddisfatto il presidente della Croce Rossa italiana di Caltanissetta, Nicolo Piave. Sono ragazzi che erano già all'interno di Croce Rossa italiana, però hanno fatto un percorso formativo importante, che è un corso che gli permetterà di poter svolgere attività di trasporto infermi in ambulanza, quindi andranno a potenziare questo tipo di attività che la Croce Rossa svolge tra le sue attività istituzionali con professionalità ed impegno, come ci contraddistingue sempre. La formazione è durata all'incirca due mesi con attività teoriche e attività pratiche svolte assieme a equipaggi già formati e quindi hanno fatto questa attività durante i trasporti che ci vengono chiesti sia dalle centrali operative, sia dal personale privato, sia dai comuni cittadini che chiamano la Croce Rossa al numero 094 29 786, che è la nostra sala operativa per poter fare questo tipo di trasporti purtroppo spesso verso visite e necessità anche fuori dalla regione. Caltanissetta, rigiocattoliamoci a Sant'Agata, in prima linea anche Federica Scalia, consigliere comunale. Si chiama Rigiocattoliamoci, l'evento organizzato dal consigliere comunale Federica Scalia in collaborazione con la protezione civile di Caltanissetta e l'associazione VIP, clown di Corsia. L'evento, partito oggi pomeriggio al Collegio Sant'Agata, prevede la distribuzione di giocattoli nuovi o usati da donare ai bambini meno fortunati, regalando loro un sorriso e due ore di gioia e spensieratezza. Le altre due tappe saranno il 1 novembre al quartiere Providenza nel laboratorio di creatività nella piazzetta fuori dagli schemi e il 2 novembre a San Domenico. Domani saremo al laboratorio ricreativo quartiere Providenza, giorno 2 alla chiesa San Domenico. Questa iniziativa rigiocattoliamoci è stata organizzata per le famiglie e i bambini meno fortunati, con il principio che tutto ciò che non viene più utilizzato non per forza bisogna buttarlo, ma basta un piccolo ritocco che è una bambola, un puzzle, una macchinetta può prendere una nuova vita, una nuova forma e quindi regalare sorrisi a altri bambini. Mi impegnerò alla realizzazione di altri eventi come questi e sono contenta della riuscita. San Cataldo Endometriosi nasce un progetto di prevenzione di informazione su una patologia poco conosciuta. A San Cataldo è stato dato il via per un progetto di sensibilizzazione per conoscere e prevenire l'endometriosi, una malattia cronica a eziopatogenesi multifattoriale, ancora non completamente chiarita. Promotori del progetto, il vice sindaco di San Cataldo, Marianna Gutilla, insieme con Claudio Lipari e Giusefin Sollami. L'endometriosi colpisce le donne, più frequentemente in età fertile. È una malattia ginecologica causata dalla presenza anomala, ovvero dall'imbiando di cellule endometriali normalmente presenti nella cavità uterina, in organi diversi dall'utero. Claudio Lipari sta supportando questa iniziativa tramite il gruppo San Cataldo Ripartiamo Insieme e afferma. Il nostro è un progetto di solidarietà e di prevenzione di una patologia poco conosciuta. Chiederemo il supporto dei medici e daremo voce ad ogni donna che sta convivendo con l'endometriosi. I problemi, se affrontati insieme, possono essere vissuti in maniera diversa, conclude Lipari. Nei prossimi giorni sarà pubblicata la locandina del primo incontro che si terrà a San Cataldo, rivolto a tutti. Sono molto orgogliosi di presentare questo nuovo progetto che abbiamo deciso di fare nascere proprio a San Cataldo, grazie alla collaborazione con Claudio Lipari e con Josephine Sollami. Insieme abbiamo deciso di unire tutte le forze, tutte le energie e soprattutto di dare voce a quelle donne che in questo momento tramite la disinformazione o tramite il vivere una determinata malattia, quale è quella dell'endometriosi, ha bisogno proprio di unire le energie e di dare voce a questo grande disagio, a questa grande sofferenza che prende il nome di endometriosi, una malattia cronica che colpisce moltissime donne, una su dieci, ma che purtroppo ancora oggi è abbastanza sconosciuta. Ecco che insieme a Claudio e insieme a Josephine abbiamo deciso di fare partire questo nuovo progetto proprio su San Cataldo. Vogliamo illuminare di giallo, che è il colore che rappresenta proprio questa malattia, la disinformazione e quindi vogliamo cercare di entrare nelle scuole, di entrare nelle associazioni, in tutti quei posti proprio per portare delle informazioni utili affinché questa malattia cominci ad essere sempre più conosciuta. Abbiamo pensato a diversi progetti di diversa natura insieme anche alle associazioni di stampo nazionale che ci coadiuveranno con le loro figure professionali. Ecco che noi a breve daremo una nuova data per l'incontro che stiamo programmando affinché tutte le donne possano radunarsi in questo progetto, stringersi insieme e iniziare un nuovo percorso, tutto il femminile di colore giallo che possa battere le endometriosi e soprattutto che possa unire le persone da un punto di vista relazionale per garantire proprio la serenità anche nell'affrontare malattie di questo genere. Mario Incudine conquista il pubblico nisseno con Mimì da sud a sud sulle note di Domenico Modugno. Io l'amo, io vado lì, amare terra lì, amare terra lì, amare bella, amare bella. Ha conquistato ancora una volta il pubblico Mario Incudine con il suo spettacolo che torna in Sicilia dopo gli ultimi anni in giro per l'Italia dal titolo Mimì da sud a sud sulle note di Domenico Modugno con la regia di Moniovadi e Giuseppe Cutino. Un viaggio tra le canzoni di Modugno, una raccolta dei suoi pezzi attraverso i quali viene anche raccontato il legame con il dialetto siciliano. Tutti quelli in siciliano o in quella lingua che lui chiamava modugnese, che era fra l'altro la lingua del suo paese, San Pietro Vernotico, che è molto simile al siciliano e che servirono a Modugno per fare la cavetta e scalare il percorso che lo avrebbe portato a diventare l'inventore della nuova canzone d'autore, Convolare. Un omaggio al primo Modugno, al Modugno che si dovette fingere siciliano per conquistare il mondo, ma anche un omaggio a tutti quelli come me che vivono magari in zone periferiche che non avrebbero la possibilità di aspirare a un posto nel mondo, invece Modugno ci insegna che con capabilità, con professionalità, con studio e abnegazione anche chi vive nelle periferie, nelle province ce la può fare. Quindi sono contento, sono contento di fare questo spettacolo con un teatro pieno dopo anni di teatri vuoti, di teatri chiusi e farlo per una causa nobile che è la lotta contro l'apolio. Lo spettacolo ha unito infatti la musica alla beneficenza e Rotary Club di Caltanissetta ha promosso l'evento di sabato in città per raccogliere fondi e dare così un contributo per combattere l'apolio e sostenere i progressi fatti sino ad oggi, puntando alla sua eradicazione. Le finalità le ho dette l'altra volta, per noi la battaglia contro l'apolio-melite è la battaglia più importante che combattiamo da più di 30 anni. Oggi è una giornata per noi particolare di festa perché è in visita a Caltanissetta nel nostro club il governatore del distretto Sicilia e Malta e quindi dovevamo, volevamo insomma in concomitanza appunto della sua visita e soprattutto in concomitanza del 24 ottobre che è la giornata mondiale contro l'apolio, per la rotta contro l'apolio, abbiamo voluto organizzare questo spettacolo di beneficenza appunto per la raccolta fondi contro l'apolio-melite. E diciamo abbiamo riempito il teatro per noi, questo è il motivo di profondo orgoglio perché il ricavato di questa serata appunto andrà per questa finalità. Finalità che da 30 anni appunto il Rotary International combatte e che è riuscito al momento a ridurre del 99,9% i casi nel mondo. Oggi purtroppo qualche caso sta riemergendo anche nei paesi occidentali quindi non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Ringrazio il presidente del Rotary Caltanissetta per l'attività che ha organizzato che riveste una notevole importanza nel paronarma delle attività per la Rotary Foundation che il 24 di ottobre ha visto la sua celebrazione mondiale. La disfida di Caltanissetta tra Arancino e Arancina, massiccia partecipazione all'insegna dell'allegria. Ha vinto la simpatia, l'allegria e la voglia di condividere una domenica insieme gustando uno dei piatti più apprezzati della cucina siciliana. La disfida di Caltanissetta tra Arancino e Arancina dopo l'assaggio della giuria infatti si è conclusa con l'auspicio di rivedersi nuovamente in futuro e ripetere l'iniziativa per riuscire a decretare un vincitore. Sono arrivati in sella le loro moto da tutta la Sicilia in città per non perdere l'appuntamento del 30 ottobre dell'associazione Moto Perpetuo Community Moto. L'idea è stata veramente grande anche perché è nata così nel giro di un paio di ore. Ci siamo sentiti telefonicamente e poi abbiamo deciso di farla e farla qui a Caltanissetta come centro, come centro diciamo neutrale per questa sfida. L'idea è fantastica, speriamo di ripeterla. Qua si vive solo il nostro gruppo i Moto Perpetuo è un gruppo molto 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 compatto, unito e stiamo cercando di diffondere la cultura proprio della conoscenza del nostro territorio. E non solo, anche conoscerci meglio noi in quanto biker. Lillo in effetti ha dato il numero che siamo all'incirca 100 ed è un numero che è stato dettato non dalla voglia di partecipare perché è stata molto molto più ampia la richiesta, però per una serie di ragioni logistiche siamo stati costretti a fermarci a 100 partecipanti e devo dire che hanno accolto immediatamente l'idea tutti quanti, quindi speriamo di poter fare di meglio negli anni a venire. Lo facciamo per divertimento, poi però siccome è opportuno dare sempre un carattere di serietà alle cose al di là del momento goliardico, noi siamo un'associazione sportiva direttantistica che è riconosciuta dal CONI e facciamo attività di mototurismo perché all'interno del CONI esiste proprio la branca del mototurismo ed è una cosa che ci riempie d'orgoglio che ci fa fare le cose sempre, speriamo, al meglio delle nostre possibilità. Le nostre uscite sono tendenzialmente connotate da un buon tenore culturale. A noi piace parecchio andare a trovare dei posti anche abbastanza fuori dai normali circuiti turistici per cercare di valorizzarli nel nostro piccolo, ma dare comunque voce a tutti quei posti che secondo me sono, la cui conoscenza è importante perché la rinascita della Sicilia parte proprio anche dalla conoscenza che noi dobbiamo avere del nostro territorio. Tra i giurati che hanno con grande ironia provato le due varianti c'era anche il primo cittadino, Nisseno. Ci sono motociclisti che sono arrivati da ogni parte della Sicilia e noi da questo punto di vista siamo molto attrattivi perché proprio stando al centro diamo la possibilità alle persone che stanno da una parte o dall'altra della Sicilia di incontrarsi proprio nella nostra città. Come al solito la nostra città è accogliente, accoglie queste manifestazioni e a noi ci fanno soltanto del bene. Anch'io vado in giro in moto per la Sicilia per cui è una cosa che sicuramente questa noi andremo a portare avanti perché c'è alcun segmento del turismo, del mototurismo, il camper o altro, per noi è importante per dare un punto di riferimento al centro della Sicilia. Stare al centro della Sicilia vuol dire anche dare servizi, per cui per noi questo diventa una sorta di obiettivo da raggiungere. La pagina sportiva, calcio, San Cataldese e Nissa ritrovano la vittoria. I Verdi Amaranto si impongono a Trapani, i Biancoscudati si aggiudicano il derby con il Gela al Palmitelli. Tornano a sorridere San Cataldese e Nissa nei rispettivi campionati. In serie D, Verdi Amaranto vincono al provinciale di Trapani al termine di una partita giocata a ritmi intensi. I Granata vanno vicini al vantaggio allo scadere del primo tempo su calcio di rigore sciupato da Mercai. Nella ripresa al 72esimo la squadra di Pietro Infantino va in gol con Baglione. La vittoria consente a Dolenti e compagni di raggiungere il terz'ultimo posto, lasciandosi alle spalle Cittanove e Mariglianese. I risultati della non aggiornata. Trapani-San Cataldese 0-1, Locri-Castrovillari 4-0, Santa Maria-Realla-Versa rinviata, Ragusa-Cireale 2-2, San Luca-Lamezia 1-0, Mariglianese-Paternò 1-3, Vibonese-Cittanova 2-1, Catania-Sinni, Sant'Agata 3-2, Licata-Canicatti 0-1. La classifica. Catania 27, Lamezia 19, Vibonese 16, Reala-Versa e Locri 15, Ragusa 14, Trapani-Canicatti e Sant'Agata 12, Castrovillari-Licate, Santa Maria 11, San Luca-Paternò e Acireale 10, San Cataldese 7, Cittanova 4, Mariglianese 3. In eccellenza i biancoscudati vincono il derby della provincia al Palmintelli contro il Gela. Ospiti in vantaggio nei minuti iniziali con Rafa. La Nissa pareggia il conto con Di Biase su calcio di rigore. Sull'1-1 il Gela si spegne, mentre i Nisseni vanno ancora in gol con Morales. Una vittoria giunta in un momento delicato della stagione, a pochi giorni dall'interruzione del rapporto con il tecnico Boncore. A fine partita tifosi e giocatori della Nissa festeggiano cantando insieme sulle note di una canzone degli anni Ottanta di Loretta Goggi. ci heissementciano cantando insieme sulle lauree e non viva senza te. I risultati dell'ottava giornata Casteldaccia, Castellammare 2 a 0 Leonfortese, Enna 0 a 1 Sciacca, Parmonval 5 a 0 Acragas, Profavara 2 a 0 Mazzara, Cus Palermo 1 a 0 Nissa, Gela 2 a 1 Oratorio Marineo, Mazzarese 0 a 0 Resuttana, Don Carlo 0 a 0 La classifica Acragas 22, Enna 18, Mazzara 17 Don Carlo e Mazzarese 16 Sciacca e Profavara 15 Casteldaccia 13 Nissa 8 Castellammare, Leonfortese 7 Resuttana, Cus Palermo e Oratorio Marineo 6 Parmonval 4, Gela 2 Volley Serie B2 L'Alba Verde-Caltanissetta Cade a Gioiosa Ionica Dopo tre vittorie consecutive Dopo 180 minuti di match All'insegna delle emozioni Per l'Alba Verde-Caltanissetta È arrivata la prima sconfitta della stagione Per 3-7 a 2 contro la Gioiosa Ionica In terra calabra Il numeroso e passionale pubblico presente Ha fatto da cornice ad una gara entusiasmante E giocata fino all'ultimo punto È stato necessario il tie-break Per decidere l'epilogo del match Per la formazione di Nissen invece Resta il rammarico di non essere riuscita A chiudere in proprio favore la gara Dopo aver trovato il vantaggio Che sembrava decisivo E aver sprecato set match ball Senza trovare il punto vincente Merito soprattutto della gioiosa Ionica Che trascinata dalla brasiliana Suelen Oliveira da Silva Ha giocato un match praticamente perfetto L'Alba Verde invece Nell'arco dell'intero pomeriggio Si è mostrata troppo discontinua Con alti e bassi Che hanno palessato delle lacune Sul piano della personalità Il punto conquistato in terra calabra però Consenta alla formazione Della presidente Oriana Mannella Di mantenere il primato in classifica Insieme alla stessa Sensation Al Torretta E al Crotone a 10 punti Seguono ad una sola lunghezza Zafferano e Cuscatania Le ragazze dell'Alba Verde infine Avranno modo di dimenticare in fretta La prima delusione stagionale Sabato prossimo infatti Al palacanizzario di Caltanissetta Arriverà la Fidelis Torretta Per un altro incontro da brividi al vertice È tutto Vi lascio al meteo E alle informazioni di pubblica utilità Grazie per l'attenzione Appuntamento rinnovato Alle prossime edizioni Grazie per l'attenzione